Sì, ciao a tutti amici di Studio Camurrina, ben ritrovati come l'oltre delle spalle, mi trovo al porto di Genova, siamo partiti da un quarto d'ora e dieci minuti, mi faceva piacere per immortalare questo momento, no, giorni super rock, sono arrivati ieri sera, sono arrivati ieri mattina, martedì a Torino, ho fatto lezione, sono andato al Combo Hotel, stamattina, mercoledì, ho fatto lezione ai ragazzi e oggi, domani, giovedì, sapete che c'è il pont della vacanza, che è la festa della Repubblica, non c'è scuola e quindi sono riscelso di nuovo il giorno dopo e mi trovo proprio a Genova, a Genova, a Genova, a Genova, a Palermo, è la durata di 20 ore, è incredibile, come la settimana scorsa ritorno a Palermo, e oggi già sono di nuovo di ritorno a Palermo, che sta splendida, no, perché dà la possibilità tantissimo di spostarsi, visto i biglietti carissimi di queste ultime settimane, sono intorno ai 300, 380, io ad esempio quello di ieri, martedì, l'ho preso 5 euro tre mesi fa, cioè, ieri era prezzato 360, quindi, una bella differenza, bene, vi lascio con questo splendido panorama, mozzabbiato, che è nelle mie spalle, un saluto da Studio Camorri, e dalla G&B, un abbraccio ragazzi, ciao!